È insediato nella piana di Lucca il più grande produttore di crisantemi della Toscana, uno dei maggiori del centro-nord Italia. La Blumen di Alto Pascio, guidata dai quattro figli dei soci fondatori, Leonardo e Nicola Paganelli e Fabio e Fulvio Pagni, produce 60.000 steli alla settimana, 3 milioni e mezzo all'anno, in serre coperte che si estendono per due ettari. Quello di adesso è il periodo più importante dell'anno. La raccolta è quasi terminata, tra pochi giorni si celebra la ricorrenza dei defunti e i crisantemi e le crisantemine altopascesi sono richiestissime dai rivenditori, in particolare dai mercati della Versilia e di pescia. Ma la più importante caratteristica delle serre Blumen è di aver scommesso da tempo su una coltivazione completamente green. Niente antiparassitari, qui si usa il vapore acqueo per disinfettare il terreno e si lanciano gli insetti antagonisti, come per la malattia del castagno, per combattere i parassiti. Trattamenti che sono più costosi della chimica tradizionale, ma gli obiettivi dei titolari sono chiari. Lo facciamo per una sostenibilità dell'azienda, per non usare gli antiparassitari, i veleni, e perché con il chimico non si riusciva più a ottenere un risultato decente. Praticamente l'insetto antagonista lavora tutti i giorni, tutto il tempo sulle foglie, sulla pianta. Invece il veleno ha un effetto solamente di tre o quattro giorni. L'insetto antagonista ha un rendimento maggiore, ha un costo maggiore, ma si riesce a ottenere un prodotto green. Dopo due anni di pandemia che hanno colpito in maniera durissima il settore, questa è una delle prime occasioni per queste aziende di iniziare a risalire la china. Il direttore di Coldiretti Lucca, Alessandro Corsini, lancia un appello in questo senso. Chiaramente l'invito che vogliamo fare oggi è anche quello di comprare fiori italiani, quindi ai cittadini vogliamo dire comprate fiori italiani, perché sicuramente sono fiori che danno la possibilità alle nostre imprese di ripartire da questi anni difficili, ma anche perché le nostre imprese sono aziende che guardano molto al green, guardano molto all'utilizzo ridottissimo di sostanze chimiche e quindi l'invito è di acquistare fiori italiani.